Guarda, non mi interessa quello che dice l'ex GT, sono veramente tranquillo in quello che sto facendo adesso, sto pensando al futuro, non penso al passato. Come vedresti Conte sulla panchina della Nazionale? Lo vedo benissimo, benissimo perché è un vincente, può portare tante cose alla squadra, alla squadra nazionale, però vediamo, vediamo cosa decino di fare. Grazie a tutti.